Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Val d'Arna e Arezzo in direzione di Roma. Prudenza per pioggia su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. In FIPD ricordiamo che per lavori l'uscita di Tirrenia è chiusa per chi proviene da Firenze. Per la canteristica sulla SR2 Cassia, senso unico alternato e restringimenti tra i chilometri 287,7 e 288,2 circa nel comune di Imprunita fino al 23 giugno. Il provvedimento è in vigore H24. In settimana nuova sulla SR429 di Val d'Elsa, senso unico alternato e restringimento dal chilometro 44 al chilometro 47 circa nel comune di Poggi Bonzi. Il provvedimento è in vigore dal 20 al 22 maggio in orario H24. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!